Amici di Niente Spoiler, ciao a tutti, io sono Fabio e oggi parliamo di Apostolo, il nuovo film prodotto da Netflix e già disponibile sulla piattaforma. Perché era tanto atteso questo film? Molto semplicemente perché è il nuovo film scritto e diretto da Gareth Evans. Gareth Evans registra di quei due capolavori action che sono The Ride e The Ride 2, capolavori assoluti del cinema action. Qui invece cambia completamente genere e fa una sorta di avventura thriller, storica, satanica, metafisica e horror e non si sa cosa perché il film è da vedere. Ma il film mi ha piacevolmente colpito. Prima di tutto perché Evans cambia genere, quindi lasciate stare le atmosfere intonesiane poliziesche dei suoi primi due film. Qui siamo in Galles dei primi del Novecento e racconta la storia di un uomo che raggiunge questa isola misteriosa dove vive questa comunità, questa setta, per trovare la sua sorella che è stata rapita da questa setta incredibile. Il film è veramente stratificato perché inizia con un film d'avventura, un thriller, c'è sempre la tensione presente e poi cambia, nel corso del film cambia più volte dall'horror fino a... non ve lo dico. Però è veramente un film camaleonte. Bravissimo Evans, anche in questo caso, essere... riuscire sempre a... nonostante qualche problema di sceneggiatura, riusci sempre a essere avvolgente. Anche grazie a una scenografia e a una fotografia sempre molte malate, ti avvolgono, insomma, bravissimi, bravissimi tutti anche il cast tecnico. Il protagonista della pellicola è Dan Stevens, che abbiamo già visto in altri film, tra cui La Bella e la Bestia, con Emma Watson, ma soprattutto Michael Sheen, che qui interpreta questo pastore di questa setta. Bravissimo, vicido, cattivo, non si sa bene cosa, bollimpe... bravissimo, Michael Sheen è un grandissimo attore, ragazzi, ha fatto teatro e si vede. E quindi, che dire, andatelo a vedere, il film è già su Netflix, quindi potete già vederlo, se avete Netflix, merita, merita. È un film che sicuramente ha dei difetti, soprattutto nella prima parte, ci mette un po' a carburare, ma poi il film prenderà, vi avvolgerà questa orgia di sangue. Bellissimo, molto bello, e bravo Evans, riesce ancora a stupire, bravo. Ci vediamo presto, seguite NienteSpoiler.it e alla prossima, ciao!